Ciao a tutte ragazze, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video, video in collaborazione con il canale di Lady Niles in Style di Anna, che volete aver letto dal titolo. È la ventesima volta che registro il video, perché non mi viene e continuo a fare papere su papere. Allora, siamo già al terzo mese, è il terzo mese di questa bellissima collaborazione, ne sono molto felice e vedo anche che vi piace, vedo, anzi io e Anna vediamo che vi piacciono questo genere, questa bella collaborazione, questo genere di video, recensire. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di scegliere, a nostra scelta, di prendere a nostra scelta cinque prodotti che noi abbiamo preso da Aliexpress, scusate se mi impappino, ma proprio oggi non ce la posso fare, e li recensiamo, diamo una stella, gli diamo delle stelle, oggi proprio non ci sono. Allora, una stella è la peggiore, cinque stelle è la più bella. Premetto che non mettiamo, non metto i link sotto, perché può essere che sono cose molto vecchie e non ci sono neanche più, e per cui quelli che magari li trovate, li trovate nei video, nella playlist dei video acquisti. Anzi, abbiamo fatto anche, ho fatto anche la playlist di questa bellissima collaborazione, la trovate, e se per caso vi interessa un prodotto non fate altro che fare lo screenshot, la foto, e fate la ricerca di immagine, così tramite l'applicazione la potete vedere. Bene, allora, partiamo perché sennò qua non ne esco più. Allora, ah, una cosa, alla fine del video ho alcune comunicazioni da dare, non volevo farle all'inizio per tenerli troppo qua, per cui rimanete fino alla fine. Poi, ah, se vi è piaciuto questo genere di video, cliccate il pollice in su, mi farebbe tanto piacere, iscrivetevi al canale, che la campanellina è qua, vi attivate anche, iscrivetevi qui, poi attivate la campanellina per non perdere i video che pubblichiamo, e sotto nell'info box metterò il video gemello al mio, di Anna, che ovviamente dovete andare a vedere, perché è bravissima, molto brava. Allora, partiamo. Il primo prodotto per cui gli do una stella è questo qua, è un olio al melograno, che come vedete è anche denso per quello, ma non fa, ne ho consumato già abbastanza, come avete visto, ma non fa niente, non... Io ho anche la pelle mista, avendo 54 anni, comunque la pelle mista, e dovrebbe almeno idratare, no? Invece, adesso lo faccio vedere, sembra praticamente comunque acqua, perché non... Vedete, è acqua praticamente. Vedete come si asciuga subito, non idrata la pelle, non... Cioè, un po' che la spalmi, si asciuga subito, è proprio acqua, non... Non mi piace proprio per niente, è veramente pessimo, non... Questo olio qui veramente non mi piace, ha le gocce, eccetera, ovviamente lo finirò, perché a me non mi piace sbatterlo via, anche se non l'ho pagato tanto, ma questo veramente non mi piace, questo probabilmente do una stella. Poi, due stelle, do questi, adesso ve li faccio vedere, sono... È una polvere olografica, è una di quelle polveri... Adesso vi faccio vedere gli effetti, allora, prendiamone... Allora, prima erano uscite fuori le polvere a specchio, no? Poi sono uscite queste qui, olografiche, quelle che fanno un po' anche tutti i colori. Vediamo se accenna la luce, magari vedete meglio, ecco. Io adesso ve li faccio vedere stesi, così vi faccio capire perché non mi piacciono, che dovrò utilizzarli in qualche altra maniera. Allora, questo qua è il numero 4, è così. Cioè, se poi mi avvicino, vedete che non colora... Sembra bello, ma vi giuro che non è bello, perché se io vado a prenderne un altro... Aspettate un secondo, che non li voglio mischiare con gli altri... Allora... Per esempio, guardate questo, lo vedete come bello coprende? Questo invece no. Cioè, non si vede proprio niente. Anche gli altri, che ve li faccio vedere... Allora... Vedete? Era un set che l'ho comprato insieme, ma vi posso garantire che dal vivo non è così acceso come si vede dalla tele che è dalla fotocamera. Pensavo poi... Dalla foto poi è anche peggio. Questo poi non si vede quasi neanche. Anche questo, che dovrebbe essere quello che fa tanti colori, dovrebbe brillare, no? E' quello che oltre al specchio dovrebbe brillare. E invece purtroppo non lo fa. Sembra solo specchio e basta, vedete? No, questi no. Ecco, questi sono gli ultimi, questi qua. Esatto, questi qui. Ecco, sono questi qua. Sono questi qua. Dalle polveri sembrava veramente... Che fosse molto meglio, sinceramente. Ma... Sì, cosa usi, Giuseppe, cosa usi? Hai l'unghia, hai l'unghia, non vi nessuno. Allora, vediamo così. Va via, non... Non colora proprio per niente. Dovrebbe... Questo dovrebbe fare, come si dice, tutti i brillantini. No? Non è solo a specchio. Questo dovrebbe veramente fare tutti i brillantini. Lo vedete, no? E invece non fa per niente. Fa poco niente. Adesso vedrò come utilizzarli. Perché, se vedete, purtroppo dalla telecamera lo accende parecchio. Ma non è così. È molto più scuro, molto più chiaro, voglio dire. E... Ecco. No, non è così, assolutamente non è così questo. Questo è un fucsia. Molto tutto glitterato, la polvere. Poi dal vivo assolutamente non viene fuori così. Per cui vedrò cosa fare. Anzi, se avete dei consigli su come utilizzarlo questo qui, perché sono qua a far niente, praticamente. E mi dispiace, perché comunque non sono costati poco sbatterli via. Mi scoccia. O li regalo, oppure se mi date magari dei consigli, scrivetemi sotto in modo tale come li potrei utilizzare. Perché sinceramente non so, non so, non so proprio cosa fare. Mi dispiace veramente tanto. Perché queste polveri sono carine per fare degli effetti, eccetera. Ma non... Come vedete anche voi... No, 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 non è proprio per niente una delusione totale. Questa poi... Ecco. Questa è un verde... È un verde bottiglia. Molto bello. Molto acceso. E non è così dalla fotocamera. Assolutamente. Comunque sono questi qua. E questo do due stelle, perché comunque sembrano belli, coprono, ma non come dovrebbe essere dal vivo. Cioè, dal vivo sono molto peggio, ve lo posso garantire. E queste sono due stelle. Poi, andiamo avanti. Tre stelle do questi. Questi qua. Questi sono dei glitter. Semplici glitter misti. Da mettere sulle unghie, ovviamente. A parte che al giorno d'oggi si possono mettere anche sul corpo. Perché do tre stelle? Perché sono bellissimi. Adesso ve li faccio vedere tutti. Sono veramente belli, fatti bene. Sono pieni. E li ho anche fatti cadere, braggio. Vedete? Sono... Il problema è che sono molto grossi. Ecco perché do tre stelle. Perché essendo così grossi, praticamente non devi fare nessuna struttura. E poi fare, come si dice, effetto vetro. Sotto vetro, sotto vetro mi sembra che si dice. E coprirle, insomma. Non li puoi lasciare, a meno che non li utilizzi come effetto zucchero, no? Però gratta tanto perché sono grossi. Guardate, questa è una meraviglia. Guardate che bello. Veramente è molto brillante, ma... Sono veramente molto grossi. E sotto le unghie, purtroppo, cioè... Non puoi fare, soprattutto un'unghia corta, non puoi fare una struttura troppo alta perché poi sta male comunque. E questi, faccio fatica anche questi, come si dice, ad utilizzarli. Ecco, li ho presi tutti quanti da un sito, in un solo negozio, scusate. E questo do tre stelle perché sono veramente belli, sono tanti, perché di solito i barattoli dei glitter sono quelli piccolini, piccolini. Invece questi sono... Cioè, quando li ho visti arrivare non pensavo che erano così, così tanti. Veramente sono... Anche questo, guardate che colori, cioè... Veramente molto brillante, brilla veramente tanto. Però purtroppo, essendo così grossi, si fa fatica ad utilizzarli, soprattutto nelle unghie corte. Vedete? Guardate che bella viglia. Cioè, molto brillante. Per cui questo do tre stelle. Allora, quattro stelle lo do a questa. Questa penna. Si può chiamare penna? Chiamiamola penna. Allora, a questa penna qua. Ovviamente con i glitter rosa. Praticamente questa serve per prelevare i brillantini, che adesso ve la faccio vedere all'opera. Allora, io avevo preso la matita, quella bianca classica, no? Ma quella non fa una veata mazza. Tant'è vero che la sbattuta via non ho neanche aspettato di tirarla, di finirla, perché non tira su niente. Questa invece, da questa è fatto male, perché è fatto male. Penso che sia cera questa qui, perché purtroppo è arrivata così. Però vi faccio vedere un'altra cosa. Però nel tirare su i brillantini, aspettate, anche questi tira su. Che non mi vedete. Vedete? Me li tira su bene. Comunque aspettate. Tiriamo giù qualche brillantino, così ve lo faccio vedere. Li tira su benissimo. Voi li appoggiate. E da quest'altra parte, premete. È veramente bellissima, comodissima. Veramente è costata veramente poco. E tira su qualunque tipo di brillantino. Sia grande, ovviamente, che piccolo. Tira su anche tutte le paillettes. Cioè, tutto quello che... Vedete? È molto comodo. Anche questi qua piccolini. Vedete? Aspettate, magari mi avvicino un po'. Eccoci qua così. Vede? E questo SS3 lo tira su benissimo, senza problemi. E niente. Allora, questo... La cosa bella di questo qui, che li vendono... Questo si può... Perché questo è veramente fatto male. Per quello gli do quattro stelle. Quando è arrivato è veramente fatto male. Vedete che non è... È tutto con le gnocche, con le... Però si può svitare. Vedete? E avvitarne una nuova. Che questo lo vendono così. L'ho preso il set così. Infatti pensavo che era uno. E invece... Là. Peccato che bianco, l'avrei preferito rosa. Comunque. E questo vedete che la differenza... Guardate, vedete? Che è fatto meglio. Però devo dire che per tirare sui brillantini, strass, paillettes e quant'altro è veramente comodo. Poi il fatto che abbia da quest'altra parte la parte dove tu puoi premere e non tirare in mano sempre lo spot è veramente stracomodo, veramente molto 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 valido. E li do quattro stelle. Peccato che sia arrivata così male. Allora... 5 stelle il massimo lo do a questo. Questo è una palette di ombretti che sicuramente sarà la coppia di qualche... Qualche nome famoso, qualche azienda famosa che io, non essendo un make-up artist, proprio per una beata mazza, mi trucco così così... E' costata veramente poco. Allora, ve la faccio vedere nel dettaglio. E' bellissima. E' scrivente, ma veramente molto scrivente. Cioè, mi sono portata, mi sono attrezzata anche di paletti di... Come si chiama? Di pennello. Allora, guardate un po'. Ve la faccio vedere. E' costata veramente poco. Non so se è costata 2-3 euro. Ma ve la faccio vedere. Guardate. Guardate che colori. E' bellissima. Veramente. Credetemi che è veramente fatta bene. Guardiamo questo che colore che di solito... Non si vede. Invece guardate. Vedete. Tantissimo. Sono veramente fatti bene. Ve la faccio vedere anche con le dita. Vedete. Guardate. Ma veramente sono questi qua poi fatti così, che sono di colori diversi, hanno... Sono tipo metallizzati, vedete. Sono veramente... E' da etate qua. Guardate che meraviglia. E' veramente stupendo. Veramente stupendo. Mi piace tantissimo come paletto. Non mi ricordo, sono pagata 2-3 euro. Anche questo molto chiaro. Vediamo come. Adesso poi ve li faccio vedere uno a uno e tutti i nomi. Guardate che roba. Che molto delicato. Questa veramente sono rimasta a bocca aperta dalla bellezza di questa palette. Scusate. E' mista. E' mista tra l'opaco, il matto voglio dire, vedete. Al metallizzato. Questi qui sono metallizzati. Questo è sempre opaco. Questo è tutto con i brillantini. Questo si può mettere per esempio stendendo sulla palpebra mobile un po' di... Come si chiama? Contorno occhi. E poi ci passate sopra questo col pennellino piatto. Vengono fuori una cosa bellissima. Anche questo, questo, anche questo è metallizzato. Vedete? E' veramente fatta bene. Molto bella. E' molto scrivente. Io la sto usando, non mi fa assolutamente niente. E mi piace assai. Mi piace veramente assai. Molto bella. Per cui se la volete, questo è il nome. 5 stelle. Veramente il massimo. Va bene. Allora, detto questo, abbiamo finito. Ho finito tutte le mie... I miei prodottini. Adesso vi faccio vedere. Alzo piaccio della carellata. Questo 1, 2, 3 stelle. 4 stelle e 5 stelle questa. Allora, ragazze. Ho finito il video. Io vi ringrazio di averlo guardato fino qua. Vi metterò, come ho detto già all'inizio, metterò sotto il link del canale di Anna, del video gemello al mio. Lo metterò sotto nell'info box. Ho fatto la playlist, per cui potete vedere anche gli altri due. Quello che volevo dirvi è che nei prossimi giorni girerò alcuni video. Allora, girerò un video sull'utilizzo della fibra di seta. È una cosa vecchia che io ho imparato al corso base e che nessuno conosce. Perché, giocando con mio figlio a karate e a jiu-jitsu, ho rotto questa, vedete? Che ve la faccio vedere bene. La vedete? Ecco, è rotta. Per cui ne approfitto per far vedere come si utilizza la fibra di seta. E in alternativa, chi non ce l'ha, cosa potete usare. Poi, è ora che faccio vedere come si tolgono le tip. Perché io ho messo una passata base, però arrivano qua. Aspettate, qua arrivano. Cioè, la ricrescita è veramente tanta. E prima che si combina da anni, perché le tip non sono come il gel, tu non puoi tenerle su tanto dopo un totti di tempo, vanno ovviamente tolte. Per cui, vedete che arriva qua. Vi farò vedere come si tolgono. E poi girerò anche altri video per far vedere, utilizzare un po' l'acrigel e menate varie, insomma, tutte queste cose qua. Un'altra cosa importante, che farò un video giveaway, il mio primo giveaway, per festeggiare i miei 500 iscritti. È doveroso farlo. È il mio primo, per cui, siccome dovrò far vedere la mia faccia, ovviamente mi devo truccare, non posso farla vedere così, sono due occhiaie grosse così. Assolutamente no. Per cui, il giorno che mi gira il pinco pallino, mi trucco per bene, mi organizzo per far la ripresa in video, insomma, per farmi vedere e farvi questo bel giveaway, che ci tengo veramente tanto. E detto questo, mi sembra di aver detto tutto. Ah, e vi ricordo, andate a salutare Anna con un cuoricino. Che colore facciamo? Facciamo un... Rosa e rosso l'ho già fatto. Viola! Bel cuoricino viola. Amante del viola, facciamo un cuoricino viola. Almeno passate di là e gli dite che avete... E siete passate anche da me, insomma. Io vi abbraccio tanto. Anna, ti mando un grosso bacione. Grazie di questa bellissima collaborazione. Se avete domande, richieste, mi raccomando, scrivetemelo pure. E vi lascio tutti i miei contatti. Ah, una cosa... No, niente, basta. Questo non c'entra in niente con le unghie. Un bacione grande, ragazzi. Vi voglio davvero bene. Un bacio grande. Grazie di avermi visto fino adesso. Vi adoro. Ciao, ciao!